ciao ragazzi siamo qui a barcellona per una delle tappe fondamentali della tango league in concomitanza con la presentazione del nuovo colore di adias scud blu did con le predator le copa le nemesis e le x saranno le scarpe che verranno presentate oggi da messi a Grazie a tutti.